Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati sul mio canale Oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo video unboxing E come avete detto dal titolo E come si vede dalla bossina Che non è stata acquistata lo stesso giorno ma Già l'anno scorso E passa se non ricordo male Con questo unboxing di prodotti Lidl Per l'estate Diciamo Perché si sono la maggior parte per l'estate E che dire ragazzi Sarà un video penso abbastanza breve Un po' stupido diciamo Però alla fine ci sta Sono prodotti carini, costano poco E ci sta da usare come usaigetta Ahimè non sono ancora riuscito a trovare Le ciabatte Perché speravo in quelle Visto che alla fine ciabatte sono comode Si distruggono e tutto, costano poco E ci stavano Però altri prodotti molto molto interessanti Iniziamo subito ragazzi con Vedere cosa c'è all'interno Iniziamo subito con questo Che ho trovato una L Ma è più corto dell'L Nei loro pantaloncini Abbiamo questo costume Fantastico Della Lido Anche se dire fantastico È un po' un eufemismo Però È carino dai Abbiamo questo costume Da usare proprio Come Costume brutto Per il male Ci sta Costava tipo V5 euro A posto di andare Nudo e mutande Ci usa questo costume E ci può stare Poi ragazzi Abbiamo un Fantastico Telomare Come vedete Che carino Di spugno Vediamo cosa c'è scritto Made in green Cosa c'è scritto Di cosa è fatto Telomare Prodotto in condizioni In puro cotone Addirittura Leggera asciugatura rapida Materiale 100% cotone Questo è il suo simbolino Vorrei evitare di Tirarlo fuori Per Evitare di Scomporlo Come vedete 85 x 170 cm Quindi quasi alto Quanto m'è Quindi comodo Perché questo Costava Veramente poco Tutte le scritte Lido Che secondo me È quello un po' più Bellino Quindi comodo Però appunto Per il male Poi abbiamo Dei pantaloncini Un po' brutti Andanti Neri Con la scritta Lido Come vedete Tutti Neri Questi ad esempio Su stralarghi L Che porto tutti L Poi abbiamo Due fantastici Calzini Con la scritta Lido e Lido Bianchi Proprio da tedesco Puro E poi ragazzi Da aggiungere Già la palla Da calcio Che ho Palla da Football Lido Tutto aprendizzato Lido In questo Prodotto Semi Spugnoso Come vedete Carino E una palla Invece da Invece da basket Concludere I prodotti I prodotti Presi Anche Anche Anni Prima Magari Se volete E mi lo chiedete Vi dirò Quali Ci vediamo Alla prossima Ragazzi Io vi saluto Ciao 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 Ciao